Beni per 500.000 euro sono stati confiscati a un imprenditore di 84 anni di Valguarnera Caropepe, piccolo centro dell'Ennese, coinvolto in passato in processi di mafia, dai quali è però uscito assolto. In ogni caso i militari della Guardia di Finanza di Enna, nel corso dei loro accertamenti, hanno rilevato sproporzioni rispetto al reddito e alle reali possibilità economiche dell'imprenditore e quindi i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Nissetta hanno chiesto e ottenuto la confisca dei beni in questione, disposta dai giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale Nisseno. Gli uffici nisseni sono infatti competenti sulla provincia ennese per quanto riguarda indagini antimafia e misure di prevenzione. Nel dettaglio la confisca, che ha rafforzato il sequestro preventivo già disposto nel luglio del 2020, riguarda cinque fabbricati e sette fondi agricoli che si trovano nei territori di Enna e Valguarnera. Tra di essi anche una lussuosa villa, ritenuta luogo di riunioni tra esponenti mafiosi, compresi latitanti, almeno secondo quanto emerso dalle indagini che si basavano anche sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.